A Sesto Fiorentino i ballottaggi tra Lorenzo Zambini e Lorenzo Falchi, due candidati che si sfidano soprattutto su un tema, l'inceneritore. Che cosa il PD non è riuscito a far capire ai cittadini di Sesto? Da come viene detto, perché si chiama termovalorizzatore, non è riuscito in questi anni di discussione forse a far percepire l'importanza e soprattutto la sicurezza con cui il governo della Toscana e quello fiorentino si approcciano a temi come questo. Il PD deve in questo momento non solo convincere ma far capire che è una forza di governo, una forza responsabile e soprattutto una forza di persone oneste che non pigliano in giro nessuno e che per prendere un voto, guardate sarebbe stato facile tre mesi fa, molto facile andare in giro a dire non lo facciamo più, nessuno di noi l'ha fatto, siamo persone per bene a partire soprattutto da Lorenzo Zambini e quindi abbiamo sostenuto questa scelta che non ha fatto Lorenzo Zambini, non ha fatto questo PD che c'è ora a Sesto, ha fatto gran parte degli amministratori che stanno nelle liste di Lorenzo Falchi. Il termovalorizzatore fa male alla salute? Guardate non lo dico io perché non sono uno scienziato e non sono un medico, lo dicono le commissioni che sono state incaricate di valutare in dieci anni gli aspetti e la tenuta e le conseguenze sanitarie di un impianto di sicurezza soprattutto, di un impianto come questo che non viene fatto in Italia o a Firenze perché abbiamo perso la testa, c'è in tutta Europa. È possibile ancora fermare il termovalorizzatore di case Passerini? No, va costruito, non è va fermato, ma verrà costruito i prossimi giorni che ci sia Falchi, che ci sia Obama, ma nessuno impedisce nulla perché il momento in cui questo si poteva impedire era diversi anni fa.